Cazzo raga, sto tornando a casa in fretta e furia Perché ho saputo che ha droppato lui Quell'artista che riesce a fare 24 ore senza dormire 24 ore senza mangiare 24 ore senza le scarpe 24 ore senza un porco dio L'attesa è finita, ora non ci resta che scoprire La canzone Però prima di ascoltare questa mina Devo fare un testamento Perché secondo me è talmente potente Che c'è il rischio che uno muoia Quindi testamento di Alessandro Pagliari In caso di morte Lascio i miei pennarelli a Sofì E le mie scarpe a lui E se cato nel ciglio Ci butto pure alberico de Giglio Firmato Alessandro Ah quasi scordavo Ho messo un video non loro Lì sotto Che però rappresenta il loro video originale Ok regà Ora che abbiamo fatto il testamento Siamo pronti per ascoltare questa bomba fantastica Vai Facciamola partire Io stavo a pensare una cosa Ma dopo tutto questo casino che sta succedendo con te Cristina Ma perché non fai una canzone? Io sto venuto come Somma Oh ha detto una Cazzo Per la prima volta in vita sua Ci ha azzeccato Quindi non la fai La ship Non abbiamo l'indumento adatto per ascoltare questa canzone Un attimo Ok Direi che ora ci siamo Una magliettina tattica Un cappellino Ora ci siamo Devo stare zitto Devo stare calmo Ma cos'è questo balletto? Che è fucilato porco dio Ai che mordio Cos'è sta cosa? Buttate sul lago Ma se manco Come la finestra tra i denti Manco mi nonno ci metti in friendzone Porco dio Oh Gesù Oh Gesù Oh Gesù Oh Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo La ship parte Cos'è sta cosa? Oh Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Comincio a pensare Che Rovazzi Sia un bravo cantante Si 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 Rovazzi Si Un bravo cantante Rovazzi 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 Tutto molto Interessante Fate finire la vostra vita Porco dio Fammi ragionare Aspetta Sciallati un attimo Con questa canzone Sciallati un attimo Con questa canzone In frizz In frizz Deci netto a te Cristo dio Ship Svegliatemi È un sogno Aspettami di là Ok Cosa cazzo Ho appena sentito E visto Cos'è questo Ai Cos'è questo Fastidio All'orecchio destro Ma Cosa Cosa sta succedendo Ma Sempre Svegliatemi E Lascia Svegliatemi L dragons Svegliatemi Illie Un Cur Svegliatemi Grazie a tutti.